Pordenone, città creativa, così esordito in conferenza stampa ad Alberta Brunelli, ispiratrice del coro Piccole Colonne di Trento, anima del concorso Un Testo per Noi, commentando l'ennesimo premio assegnato all'Istituto Vendramini per la nuova canzone Il Ballo della Mummia, che parteciperà al Festival della Canzone Europea dei Bambini il 4, il 5 e il 6 aprile 2014. Complimenti alla scuola, ma anche a tutto il comune, per avere dei bambini così creativi ed un insegnante che riesce a valorizzare il lavoro della creatività dei bambini. Per me è stato un grandissimo piacere musicare questo testo. Stefania Orlandini del Consorzio Proloco Valle di Ledro, che ospiterà il Festival. La collaborazione con il coro Piccole Colonne è nata quando una scuola della Val di Ledro, quattro anni fa, ha vinto il concorso. Quindi da lì abbiamo iniziato a frequentarci ed è nata l'idea, insieme all'amministrazione comunale, di ospitare il Festival. In rappresentanza del comune di Pordenone è intervenuta l'assessore all'urbanistica Martina Toffolo. Il comune naturalmente non può che accogliere e sostenere queste iniziative che sviluppano la fantasia dei nostri ragazzi, che li fa confrontare con delle cose complesse come scrivere un testo di una canzone, che gli fa sviluppare una bellissima fantasia. E la canzone che hanno scritto è proprio all'insegna di tutto questo. E quindi un ringraziamento non solo alle maestre che con il loro prezioso lavoro li hanno condotti, a tutti i bambini che hanno fatto un lavoro serissimo e puntuale, all'associazione e al festival che promuove un'attenzione particolare alle giovani età e ci vedranno sempre vicini a loro nel sostegno di queste importanti iniziative. Grazie a tutti.